Ci sono dei momenti nella nostra vetta che vanno da sparti acque tra ciò che siamo e ciò che saremo. Per Lucas Levin d'Ambrosio, per tutti il pretino, questo giorno è una domenica di fine dicembre, una fretta domenica di fine dicembre. È la partita che procede la pausa del campionato. Sanzisto e Angelana si gioca in casa del Sanzisto, squadra nella quale milita proprio Luca d'Ambrosio. Solo 1-0 per gli ospiti, i padroni di casa possono approfittare del calcio di punizione, di quelli laterali da mettere in mezzo. Parte Ciacomo Crocetta e la battuta. Il cross viene messo in mezzo, arriva Peppe Russo che con una mano schiaccia il rete. Uno a uno, incredibile. L'arbitro non si accorge di niente. Per farvi capire la dinamica dell'azione, c'è un signore fuori che sta guardando la partita. Un signore distinto, con una sciarpa al collo. Si gira verso Christian Prelati, il direttore sportivo della società. Gli fa, ma com'è fatta a non vederlo. Christian blatterà qualcosa del tipo, ragazzo esulta, io non ho visto niente, ma poi tu che cazzo vuoi? Tutti esultano, tutti festeggiano, tutti tranne Luca d'Ambrosio. Si gira verso Giacomo Crocetti, che stava esultando anche lui, un po' perplesso. Lo guarda e gli fa, Croce, ma che facciamo? Non glielo diciamo? Peppe ha fatto un palo di mano incredibile. A confronto Maradona è un pevello. A questo punto Giacomo Crocetti prende a raccolta anche Luca Stella. Luca d'Ambrosio si avvicina all'arbitro e gli dice, signor arbitro, guarda che Peppe Russo l'ha toccata con la mano. L'arbitro rimane un attimo stupito, da tanta sincerità. Da lontano, Iuri De Marco urla frasi sconnesse, in una lingua non ben comprensibile. Quello che riusciamo a capire più estendamente è, l'anno scorso cazzo che Oroscio ci ha detto che era fuori l'aria al rigore. Il succo è questo. A questo punto l'arbitro deve prendere una decisione, fidarsi di un giocatore che fondamentalmente non c'entra niente nell'azione appena conclusa, sì, oppure fidarsi di se stesso. Ma il potere onirico di Luca d'Ambrosio è talmente alto che l'arbitro annulla il gol. Non solo, c'era un calcio di rigore evidentissimo, non sbandierato ovviamente perché la palla era finita il resto, non dà nemmeno il rigore e riesce a far scontenti tutti. Però questa è un'altra storia, la storia nostra, è quella che da quel giorno in poi farà etichettare Luca Sleven D'Ambrosio come o bravita.